Con 13 voti favorevoli e 10 contrari, di cui tre consiglieri della maggioranza, Carla Luzzi, Riccardo Severi e Laura Serra, la delibera con la variante di destinazione d'uso dell'appezzamento di 4 ettari a Chiaruccia, sul quale dovrebbe essere edificata la struttura sanitaria convenzionata, poco dopo la mezzanotte di ieri, è passata. Ci sono voluti ben quattro tentativi per far passare il primo tassello di questo intrigato puzzle che ci ritroveremo per anni a venire. Come è immaginabile, chi ha fortemente spinto per questa direzione da intraprendere non può che esprimere la sua massima soddisfazione. Si vuole integrare la sanità pubblica con una nuova clinica privata convenzionata, quindi la nuova clinica prevederà un determinato numero di posti letto, almeno 50 dei quali saranno convenzionati, quindi accessibili a tutti i cittadini. Questo per dare ancora maggiori specialistiche alla sanità territoriale e quindi dare la possibilità a tutti i cittadini di curarsi del nostro territorio senza dover andare nelle regioni limitrofe per cercare eccellenze sanitarie. Questo è un percorso lungo che inizia da questo momento e che porterà sicuramente notevoli benefici, in termini anche economici, alla città di Fano perché siamo convinti che la realizzazione di una nuova clinica porterà un indotto tale che migliorerà sicuramente il lato proprio economico della nostra città, oltre che una migliore offerta sanitaria. Disegno ovviamente opposto il parere dell'intera opposizione, compatta nel pensare che questo sia esclusivamente un regalo fatto al privato, a discapito di uno dei fiori all'occhiello della sanità fanese, ovvero l'ortopedia. Della delibera non sono previsti gli oneri di costruzione per il privato, che saranno quindi tutti a carico del comune, che vuol dire che il comune si dovrà fare carico di costruire fognature, prolungare l'acquedotto fino a quella zona che non è previsto. Quindi un ulteriore regalo ai privati, oltre al fatto di concedere uno di quei servizi sanitari che è più allettante, ovvero l'ortopedia. Infatti tramite la convenzione che ci sarà con la regione, il nostro comune, insomma ci saranno 50 posti letto di ortopedia e quando l'ortopedia era un fiori all'occhiello della nostra sanità pubblica, e questo non lo dico io, ma lo dice il presidente dell'Ordine dei Medici Provinciali, che si è lamentato insieme anche ad alcune sigle sindacali del fatto che purtroppo si spendano soldi nel privato e non per migliorare la sanità pubblica.